Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuoca? Si affaccia alla finestra per augurare il buongiorno al mondo. Buongiorno, mondo! Domandimo di lunedì miele con Filippo! Ma bella, non si ricredita! Che serio? Che 2017 non vedi manco una medaglia, sta gru*****o mille applauso come condimento per ericchiette lezzi di rap, va bene? Ciao ragazzi, cosa volete che succeda nel prossimo episodio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e... Un saluto Pantelliano a tutti! Uh, andiamo...